www.marizopoli.it, una breve fotografia dell'andamento del trimestre della borsa italiana FuzziMib. Quali sono le migliori azioni dell'ultimo trimestre 2024? Al primo posto Iveco, più 68%, al secondo posto Leonardo, più 55%, al terzo posto Saipem, più 52%, Unipol, al quarto posto, più 50%, quinto posto Biperbank, più 44%. I peggiori titoli su FuzziMib sono stati TeleconItalia, meno 23%, secondo posto Nexi, meno 20%, Erg, meno 19%, quarto posto, XCT e Microelectronics, meno 11% e A2A, al quinto posto, meno 10%. Intanto l'oro e il cacao, nel momento di incertezza, volano ai massimi di quotazione. Tutto ciò è solo una fotografia del trimestre e non è sollecitazione del risparmio. Una buona informazione, alla prossima.